Ciao, sono Francesca, vengo da Varese e sono arrivata qua da sola praticamente, ho guardato su internet, mi sembrava il posto giusto e non ho sbagliato, perché da come sono arrivata mi sono subito trovata bene. I medici competenti, le ragazze bravissime, il risultato finale più che ottimo. Allora, primo intervento è andato tutto bene, lungo ma è andato bene, non ho avuto dolori, non mi hanno fatto sentire niente, bravissimi, questo è il primo viaggio con i denti provvisori. Il secondo viaggio un altro intervento, meglio del primo, sapevo già cosa andavo incontro ed ero tranquillissima. Il terzo viaggio, diciamo questo, l'ultimo per i definitivi, beh, si vede, bellissimi.